Mi sono affidata IT Casa per acquistare una casa a distanza quasi a scatola chiusa. Ho scelto loro perché utilizzano il digitale e mi hanno permesso di visionare la casa nella sua interezza anche a distanza e questo ha fatto sì che quando mi sono recata nel luogo avessi già appena conoscenza di quella che era la casa che avevo scelto. E questo mi ha permesso di risparmiare un sacco di tempo e di visite inutili.